Un tema oggi molto interessante, soprattutto per noi donne. Il professore l'ha voluto tracciare in questo modo, la diversa sazietà delle donne, dono, lavoro, reciprocità, sequela, a partire dal libro di Ruth. Ruth è un libro molto piccolo della Bibbia, un libro piccolino che però contiene tanti messaggi, sia di tipo etico, ma anche sociale, ma soprattutto economico. E' un libro che, diciamo, è una storia di famiglia, una storia familiare, è un capitolo della storia di Israele, ma prima di tutto è una storia di donne. Diciamo che il libro esalta, elogia la pratica della bontà e, diciamo, mette in evidenza la prassi di una straordinaria umanità improntata al rispetto, al riconoscimento dell'altro. Un libro dove ci sono le sfumature più delicate di un'attenzione tutta femminile, una sensibilità, una delicatezza, ma anche una giustizia e un'obbedienza alle leggi creativa. Perché le leggi sono interpretate da donne e le donne ci mettono una creatività straordinaria, per cui è molto interessante quello che il professore oggi ci dirà. Un libro che vede soprattutto la ricchezza delle donne e degli uomini, sì, sui beni, sul grano, ma soprattutto su una qualità relazionale davvero molto suggestiva. Lascio la parola al professore. Grazie, professor Bruni, già da adesso e ascoltiamo con molto interesse quello che ci vorrà dire. Sì, grazie a voi anche questa volta per essere venute numerose a questo nostro corso. Appunto, oggi abbiamo scelto come tema il libro di Ruth, per parlare di economia, lavoro e anche, come si diceva ora, con uno sguardo al femminile. Mi sono occupato di questo libro lo scorso anno e è stata una bella scoperta anche per me, perché sì, tutti conosciamo, forse anche per lavoro un po' di più, l'Antico Testamento. Non è detto che poi i libri li conosciamo in approfondito e quindi studiandolo mi è anche molto molto piaciuto. Quindi oggi faremo così. Faremo una prima parte dove io vi presento un po' la figura di Ruth, di Noemi e di Orpa, che è la cognata di Noemi, che c'è anche il suo perché in questa storia, che è la cognata di Ruth. Poi, nella seconda parte, guarderemo l'economia del libro di Ruth, che è un libro molto economico, dove c'è molta economia, chiaramente un'economia agricola di 2400 anni fa, però gli insegnamenti, come spesso succede con la Bibbia, sono importanti anche per noi oggi. Quindi una prima parte un po' più generale su due cose, cioè sul libro di Ruth un po', ma anche su un dettaglio che c'è nel libro di Ruth, cioè su come quelle donne, cioè il rapporto tra donne e vocazione nel libro di Ruth, che è diverso da altre figure più maschili nella Bibbia. E spero, essendo un pubblico essenzialmente femminile, di persone con vocazione come voi, spero vi possa interessare, a prescindere dall'economia. Anche perché io, appunto, sono un economista, mi occupo d'economia, ma mi occupo anche sinceramente d'altro, perché quando si commenta un libro biblico bisogna non solo parlare d'economia, ma parlare di quello che c'è, per rispetto anche del testo. Allora, il libro di Ruth è un libro piccolo, abbiamo appena ascoltato, è un libro molto amato dagli ebrei, soprattutto. Il libro che viene letto, è uno dei rotoli che viene letto ogni anno, è uno dei Megillot, cosiddetto rotoli. Un libro liturgico si legge durante la festa delle settimane, che in greco vuol dire Pentecoste, che è un nome familiare anche per noi. In origine era una festa delle messi, celebrata sette settimane dopo l'offerta del primo comune d'orzo nel giorno dopo Pasqua. E quindi tutta la storia di Ruth è avvolta dall'atmosfera del raccolto, dell'orzo, del frumento, dell'aia, della campagna. E' un libro quasi tutto all'aperto. Mi dici adesso il video io. Sì, sì, magari se togliamo l'audio, quando siamo tanti. Quindi è un libro che è immerso nell'ambiente del lavoro. Il lavoro chiaramente della Palestina, come sapete, la città di riferimento è Bethlehem. Quindi siamo anche col cuore e con la mente a ciò che accade oggi a Bethlehem, che accade a Gaza, che accade in queste terre martoriate, senza dimenticarci l'Ucraina. Col cuore siamo tutti e tutte lì. Non possiamo occuparci della Bibbia senza avere sempre il cuore sulle Bibbie di oggi, cioè su ciò che accade nel mondo, sui Golgotha di oggi, sui crocifissi di oggi. Perché non è per il fatto che Gesù è risorto, sono finiti i crocifissi nel mondo, anzi, sono sempre di più purtroppo. E quindi chiaramente noi parliamo di cose antiche, ma col cuore siamo nella cronaca di oggi, nella vita dei nostri contemporanei, di uomini, di donne e bambini che soffrono. Quindi il libro di Ruth poi parla essenzialmente di donne. È vero che c'è anche un personaggio maschile, ma che è anche importante, Boz, che è quello che diventava il marito di Ruth, però essenzialmente un ambiente femminile. All'inizio è quasi soltanto femminile nei primi passaggi e poi rimane tale fino alla fine, che finisce con un bambino, tra parentesi. Ruth sapete che è inserita nella genealogia di Gesù, perché è la nonna di Davide. Ed è anche un piccolo racconto che lega Davide al resto della storia della salvezza, per ricollegarlo fino ad Abramo, a tutta questa preistoria. Quindi è un romanzo biblico, ma non vuol dire che siano delle stupidaggini, anzi i romanzi sono stupendi, sono molto belli tutti, alcuni molto belli, pochi sono stupendi, tra questi anche questi testi biblici, narrativi. È un libro scritto molto bene, è un gioiellino narrativo, per questo è anche molto, tanto che è talmente femminile il tono che qualcuno ha ipotizzato l'improbabile ipotesi che l'autore fosse una donna di questo libro, per quanto c'è della sensibilità femminile, come abbiamo ascoltato. La storia, cioè il libro è ambientato in una fase arcaica di Israele, circa l'undicesimo secolo avanti Cristo, però noi sappiamo che il libro risale al quinto, forse al quarto secolo avanti Cristo, l'ho scritto molto dopo. Ed è un tempo, come comincia il libro, dei giudici, e i giudici erano un tempo difficile, è stato un tempo difficile di lotte, di rovine, di desolazione, quindi root è anche, per dirla con una frase poetica, un fiore del male, cioè un fiore che emerge da un tempo difficile, come spesso accade anche nella Bibbia, quindi con altri racconti. E root vuol dire compagna, anche con una possibile etimologia, quindi la sua fedeltà, la sua compagna, la sua compagnia, la sua scelta, come vedremo, di rimanere fedele a sua suocera, è una dimensione fondamentale. Quindi siamo lungo le strade, siamo all'aria aperta, e una famiglia si sposta da Bethlehem e va a vivere in Moab. Chi di voi è un po' avvezza di Bibbia, spero tutte, sapete che Moab è un nome di nemici, una storia antica che risale all'Esodo, dove i Moabiti, insieme agli Ammoniti, non diedero pane e acqua al popolo di Israele. E quindi ci fu questa profezia negativa della Bibbia che i Moabiti non entreranno nella terra promessa, cioè non saranno mai parte del popolo. Ecco perché da qui anche il divieto di sposare Moabiti, per gli israeliti, non portarono pane. Quindi è interessante questo, perché durante una carestia di pane, Noemi e suo marito, Elimelech, lasciano Bethlehem, che significa terra, la casa del pane, per andare a cercare pane a Moab, che non diedero pane agli israeliti. Tutti questi paradossi stupendenti della Bibbia. Vanno lì perché nella Bibbia ci si sposta per vocazioni o ci si sposta per fame, per le carestie. Quindi si trovano questa famiglia, Noemi, il marito, e hanno due figli con dei nomi un po' improbabili, anche un po' macabri, anche che sono già indicazione del destino di questi due ragazzi, perché uno si chiama Malattia e l'altro si chiama Poliomedite, una cosa del genere. Poi sono nomi anche complicati, questi due figli che nascono da Noemi. Questi due figli prendono due donne moabite come mogli, e anche questo è un fatto che non è normalissimo nella Bibbia, perché appunto c'era quel divieto di non avere contatti con i moabiti, che erano stati cattivi con gli ebrei, ma di fatto accade. Poi su questo abbiamo tempo, facciamo un commento di come è possibile che accada un qualcosa che è proibito. E quando si trovano già quindi a Moab, questa regione non confinante con Israele, una delle due mogli di questi due figli è Ruth, l'altra è Orpa. E succede che purtroppo i due figli di Noemi muoiono entrambi e rimangono tre vedove, perché lei era già vedova, che il marito era morto, Noemi. muoiono anche i mariti, cioè i figli, anche i mariti delle due nuori, e abbiamo tre vedove. La storia inizia con tre vedove insieme. E quindi siamo già in un contesto molto particolare, molto specifico. E poi c'è un dato nel libro di Ruth, che è importante, che Dio è molto poco presente, sia menzionato come scritto, cioè come parola, che è molto poco presente come attore. Il libro di Ruth è essenzialmente un libro dove gli attori sono donne e un uomo. Cioè si parla di Dio attraverso parole di donne. E questo è un fatto interessante. Infatti volevo leggere questa nota, se posso condividere lo schermo, se sono autorizzato, vi faccio vedere qualche pagina, perché io ho fatto un commento a Ruth in questo scorso anno. Non perché lo compriate, anzi. È proibito comprare i miei libri, solo prenderli in prestito. C'è infine, qui ci vuole sempre una lettrice, l'altra volta è stata stupenda l'lettrice, non sarà facile uguagliarla, ma insomma ci proviamo. Voi riuscite a vedere il testo? Sì. Si vede? Sì, sì. Quindi c'è infine nel libro di Ruth, va bene, c'è una donna che può leggere? Siete timide? C'è una candidata. C'è infine nel libro di Ruth una nota tutt'umana che spicca sulle altre. La Bibbia è piena di voci, di vocazioni, di uomini che ricevono una chiamata, che dialogano con Dio e poi quasi sempre partono per eseguire il compito ricevuto. pensiamo appunto a tutti i grandi uomini biblici, da Abramo a Mosè, Davide, fino ad arrivare al Nuovo Testamento, gli apostoli, eccetera, cioè chiamati che sentono una voce, la voce di Dio, e partono. Potremmo anche raccontare la Bibbia come susseguirsi all'intreccio di queste voci e questi dialoghi. Nel libro di Ruth, invece, queste voci divine non ci sono. Non ci sono gli angeli né Elohim a chiamare le sue protagoniste. Non ci sono manifestazioni di Dio. Non c'è quasi neanche il suo nome. Noemi e Ruth si alzano e si mettono in cammino, non come risposta a una voce esterna. La voce che le chiama le fa alzare, camminare e tornare. È tutta interna e quindi noi lettori la odiamo, ne vediamo solo gli effetti. Forse perché le voci che muovono le donne sono sussurri incarnati, sono gemiti di vita, sono segni scritti nell'invincibile vocazione alla vita. Noemi e Ruth cercano e inseguono la vita e così vivono la loro vocazione. Il Dio della vita vede queste azioni tutte umane, le riconosce come sue, vi appone il suo carisma e poi ci dice Voi vuoi capire chi sono? Guarda Ruth e Noemi. Gli uomini biblici, per muoversi, sembra abbiano bisogno di udire la voce di Dio che li chiama per nome. Solo un secondo che cambio pagina. Le donne bibliche. Quasi sempre partono e basta, quasi sempre partono sole, in una solitudine tutta loro, anche quando è ricoperta di compagnia e sororità. Partono per vivere, per far vivere altri, Ruth e le sue sorelle, Abigail, Anna, Rispa, Elisabetta, Maria. E in questo c'è forse qualcosa del modo femminile di vivere le vocazioni. Provo sempre un profondo imbarazzo quando devo parlare dell'anima delle donne. Io come maschio. Quando le donne raccontano le loro storie vocazionali, dicono spesso storie diverse. La chiamata, l'incontro solenne e chiaro e con la voce divina non ci sono sempre. Per mettersi in cammino con la loro tipica tenacia e fedeltà sono importanti le voci umane e gli incontri diversi con persone in carne e ossa, magari con il guardiano di un sepolcro vuoto. Hanno la rara capacità di intercettare il carattere divino dentro le voci umane. Sanno, per un misterioso istinto spirituale, trovare l'infinito nel dettaglio. Sanno riconoscere l'Eterno in un bambino. Portano in sé la vita per donarla e il Dio della vita ha fatto loro il dono di sentirlo e toccarlo dentro la vita. Le religioni e i dogmi sarebbero stati molto diversi se li avessero raccontati le donne. Dio creò l'uomo su immagine e somiglianza, a immagine di Dio li creò, maschio e femmina li creò. Qui non è Genesi 1 ma chiaramente Genesi 1 27 mi sembra, anzi 1.35 ma c'è un errore distante. La Bibbia è anche una lunga spiegazione, un esegese di questa frase stupenda posta non a caso nel primo capitolo del suo primo libro. Il libro di Ruth completa questo esegesi perché insieme agli altri libri ed episodi che nella Bibbia ci parlano di Dio parlandoci di donne ci spiega l'altra metà dell'immagine di Dio maschio e femmina li creò. Va bene fin qua? Questo è solo un inizio poi facciamo ancora qualcosa su che leggiamo queste sono delle immagini che ora voi non vedete più. Comunque rimangono sole queste donne tutte e tre senza nessun uomo donne senza uomini ricordo un po' la condizione anche per certi versi di monasteri di conventi femminili noi non abbiamo ancora abbastanza capito che cosa sono e abbiamo mai studiato che cosa sono veramente i conventi e i monasteri femminili penso che prima o poi qualcuno lo dovrà fare perché vengono poco capiti poco valorizzati spesso associati come se fossero semplicemente come quelli maschili ci sarebbe bisogno di un lavoro specifico su questo insomma ma forse un giorno si farà quindi vanno via cioè vanno via a un certo punto queste tre donne Noemi dice sente che ora salto perché non c'è tempo di andare nei dettagli Noemi dice alle altre alle due nuore io torno a casa poi vedremo che è un tornare anche da sconfitta che lei non torna senza niente cioè torna senza marito senza figli senza ricchezza però dice io torno a morire dalla mia terra che è una cosa che è molto molto bella quindi vanno a un certo punto Noemi che è molto amareggiata vorrebbe chiamarsi marano sapete vuol dire amareggiata a un certo punto le termina questo lutto per un periodo dopo le torna questa tristezza però a Moab le finisce questa tristezza elabora il lutto ci arriva il lutto e parte e dice il testo lei si alzò che è una parola molto bella nella Bibbia siamo al capitolo 1 versetto 6 siamo molto siamo abbastanza vicini lei si alzò con le sue suore e fece ritorno dai campi di Moab e qui lei si alzò chiaramente fa venire in mente mille parole nella Bibbia come Anna la madre di Samuele che si alzò uno Samuele dopo aver pianto per essere sterile un giorno si alzò e cominciò una vita nuova come il figlio chiaramente il figlio prodigo che si alzò la sua porcina questo gesto di qualcuno che ad un certo punto dopo una prova dopo una difficoltà della vita un giorno si alza e lì finisce il lutto di Noemi cioè con questo gesto si alzò comincia la sua resurrezione cioè che parte verso parte verso la sua casa di origine la sua terra lei era ebrea chiaramente Noemi non era ebrea Ruth come sapete e allora da questo contesto in questo viaggio lei cerca di convincere le sue figlie le sue figlie insomma le sue anche se erano figlie in quel tempo le donne le nuore e dice tornate a casa voi cosa fate con me voi siete giovani sono abbastanza giovani che sono state per dieci anni con i mariti morti quindi avranno avuto attorno a fine sulla parte finale dei vent'anni o forse venticinque ventisette in quel tempo si sposavano presto cosa fate con me io non posso darvi più figli rifatevi una vita e qui comincia il dialogo stupendo che conosciamo quindi ora io ricondivido lo schermo e chiediamo alla bravissima elettrice di prima o chi volete voi di continuare allora andiamo qui su zoom condivido lo schermo voi queste cose già le conoscete però insomma vogliamo far finta anche di non conoscere se no non riusciamo a fare un racconto si vede Noemi partì sì si vede si vede ecco ecco Noemi partì dunque dal luogo dove aveva abitato e con lei c'erano le due nuore e si messero in cammino per tornare nel paese di Giuda Noemi mi disse alle due nuore andate tornate ciascuna a casa di vostra madre e avevi usi misericordia come voi avete fatto con quelli che sono morti con me il Signore vi conceda di trovare riposo ciascuna nella casa di suo marito e le baciò le tre vedove partono mentre il cammino il primo colpo di scena Noemi chiede alle sue due nuore di tornare a casa sono nuore le ali e buone che avevano usato con lei amore misericordioso Eset siamo dentro un rapporto di amore e di reciprocità ma una volta partite Noemi cambia i piani non erano più a Moab e non ancora a Betlemme sono a metà strada un attimo che cambio pagina in mezzo al guado questa terra di mezzo tra Moab e Betlemme è una terra di donne perché Noemi non ha parlato alle nuore prima di partire il libro non ce lo dice forse l'autore ha voluto portare le tre donne nel deserto perché in quel questo è un pdf di bozze piccoli segni ma lei non si preoccupi vado avanti in quel non luogo in quel non luogo c'erano le condizioni per una scelta più libera via dallo sguardo delle famiglie d'origine dal peso degli dei di casa dai maschi attorno lungo la strada le due nuore vedove possono scegliere di continuare o tornare indietro lì lo spazio è superiore perché mentre il tempo continua a scorrere nel suo asse di sempre e di tutti l'altro asse della vita lo stanno segnando con la loro libertà di andare o tornare in quel mondo la poca e piccola libertà delle donne andava creata fuori dalla casa di ieri e prima di arrivare in quella di domani la loro libertà era transitoria in transito provvisoria e temporanea una libertà fragile che la Bibbia vede custodisce e ci dona le scelte di Noemi Rutte e Orpa sono scelte di donne libere almeno in quel tratto di strada di vita di libro e se c'è una persona è veramente libera in un solo tratto lo è sempre e se una persona è veramente libera in un solo tratto lo è sempre Noemi bacia le sue nuore i baci nella Bibbia sono sempre importanti ma qualche volta lo sono di più come in questo bacio di addio salato dalle lacrime sono sempre meravigliosi i baci di saluto tra donne che si vogliono bene hanno sapore e l'intensità del paradiso le nuore non si fanno convincere dalle parole di Noemi no torneremo con te al tuo popolo Noemi insiste con nuovi argomenti tornate indietro figlie mie perché dovreste venire con me o forse ancora in grembo figli che potrebbero diventare vostri mariti tornate indietro figlie mie andate io sono troppo vecchia per risposarmi se anche pensassi pensassi un attimo che ripeschiamo di avere una speranza speranza prendessi marito questa notte e generassi pure dei figli vorreste voi aspettare che crescano e rinuncereste per questo maritarvi no figlie mie io sono molto più amareggiata di voi poiché la mano di Yahweh si è rivolta contro di me cioè lei fa una parte giustissima Noemi fa la parte responsabile giusta di una donna matura che dice non rovinate la vostra vita per stare dietro a me rifatevi una vita lasciatevi andare io sono vecchia non dovete non dovete rinunciare alla vostra felicità per la mia fa una cosa stupenda quello che dovrebbe fare ogni adulto di fronte a un giovane mai a servirlo ai propri bisogni questo è un tema enorme quanta gente a volte anche genitori più o meno inconsapevolmente quasi fanno dei ricatti più o meno espliciti ai figli alle figlie voi mi lasciate soli invece di pensare a me voi fate la vostra vita che è la cosa peggiore che può fare una persona anziana che dovrebbe fare in modo che loro non diventino un peso che non fanno volare i figli questo vale anche nelle comunità religiose cioè noi è ovvio che tutti dobbiamo vivere per gli altri essere pieni di amore ma la mia parte di persona anziana è dire vivete voi che siete giovani non pensate a me pensate alla vostra felicità perché altrimenti vi bloccate dietro una forma di amore e di misericordia che non è generativa che non va bene quindi lei fa una parte bellissima Noemi avanti non sappiamo perché Noemi si è così decisa a voler tornare da sole gli interpreti hanno dato molte versioni inclusa la paura di arrivare a Betlemme con due donne vedove moabite o il suo sentirsi fuori dalla benevolenza di Dio la mano di Dio restiamo comunque colpiti dall'onestà di quella anziana donna ed ecco il secondo movimento di nuovo esse scoppiarono a piangere Orpa si accomiatò con un bacio da sua suocere Ruth invece si attaccò a lei questa volta le due nuori agiscono diversamente Orpa torna a casa Ruth disobbedisce e resta Noemi insiste ecco tua cognata è tornata dalla sua gente dal suo Dio torna indietro anche tu come tua cognata Noemi dice le parole che doveva dire perché sono le parole dell'amore adulto espone tutte le sue buone ragioni e noi la capiamo ecco una cosa che volevo dirvi il comportamento di Orpa è quello normale in quella cultura perché le nuore obbedivano alle suocere alle donne più anziane non era possibile cioè era molto rara la disobbedienza ed era brutta ed era chiaramente non approvata dalla Bibbia e dal mondo antico ma ancora a casa mia è così cioè c'è l'idea che la persona anziana va rispettata quindi chi trasgredisce Ruth non Orpa Orpa fa quello che doveva fare prova una prima volta ad andare parte la prima volta dice no io rimango ma di fronte alla seconda richiesta Orpa va a casa e quello che è interessante è che la Bibbia non condanna Orpa anche se poi vedremo che c'è una strana strano racconto di un midrash antico che insomma che legge Orpa come nuca quella che voltò le spalle a Noemi ma in realtà la Bibbia il testo di Ruth è un testo buono non è un re anche verso tutti è buono anche verso Orpa perché Orpa è l'immagine delle persone normali cioè che a un certo punto fanno quello che devono fare Orpa non ha una vocazione a seguire Noemi e quindi fa la sua vita e questo è anche importante perché nei bibi della vita possiamo fare scelte diverse cioè non è solo buona Ruth c'è anche la possibilità di Orpa nella vita di dire io torno a casa di farmi una vita in tutti i momenti fino a 80 anni fino a 90 anni non bisogna guardare con condanni è ovvio che la Bibbia è più simpatica con Ruth e anche noi però non dobbiamo condannare Orpa e le tante Orpe che a un certo punto tornano a casa vanno indietro perché è una opzione della vita sempre fino alla fine perché siamo liberi e non siamo schiavi quindi questa presenza di una strada diversa dentro la stessa sequela di una nuora che torna a casa e non è condannata significa che sono molti i modi di rispondere ad una voce e non dobbiamo condannare quelle che fanno scelte diverse dalle nostre avanti e trasgredisce Ruth Orpa infatti non fa altro che obbedire alle parole di Noemi diversamente da alcune tradizioni che leggono nel suo nome la parola nuca e quindi il dare le spalle a Noemi secondo il Midrash nella notte in cui Orpa lascia Noemi viene violentata da cento uomini e un cane e da quello stupro nasce a Golia capite questa è una storia cattiva che non è quella della Bibbia la Bibbia non la condanna Orpa l'autore non produce né suggerisce alcun giudizio negativo nei confronti di Orpa il libro di Ruth è il libro della benevolenza degli sguardi era partita con Noemi e Ruth poi di fronte alle parole della suocera fa quello che doveva fare faccia Noemi un attimo per due volte per due volte piange due volte le vuole bene avrà voluto bene anche a Ruth ma riprende il flusso ordinario e ordinato della vita non sente una vocazione torna a casa esce per sempre dal libro e noi la benediciamo dobbiamo sempre benedire quelle che fanno scelte diverse mai maledire perché la vita è così cioè la Bibbia ha un cuore largo sulle vocazioni umane e anche noi dobbiamo avercelo ed è a questo punto e Ruth prende per la prima volta la parola in uno dei brani poetici e spirituali più belli di tutta la Bibbia che va letto tutto d'un fiato questo è molto bello che tanti conosciamo ma è sempre bello rileggere non insistere con me che ti abbandoni e torni indietro senza di te perché tu dove andrai tu andrò anch'io e dove ti fermerai mi fermerò il tuo popolo sarà il mio popolo e il tuo Dio sarai il mio Dio dove morirai tu morirò anch'io e lì sarò sepolta il Signore mi faccia questo male e altro ancora se altra cosa che non sia la morte mi separerà da te stupendo un canto al valore infinito dei legami umani delle persone del valore assoluto di una sola persona perché Ruth vuol seguire Noemi e non ascolta il suo consiglio il tema del valore di una persona sola è molto importante perché una volta mi disse un mio amico che poi diciamo lasciò la vita religiosa e si sposò con una donna mi disse perché preferisco cioè chiaramente questa era la sua preferisco amare molto una persona sola che amare poco tante cioè c'è anche un valore nella fedeltà a una persona che poi chiaramente è anche fedeltà a Dio in un altro senso però non è che una persona perché è una sola vale meno di mille perché ogni persona ha un valore assoluto e amare molto una persona è stupendo nella vita c'è gente che fa solo questo uno, due, tre siamo dei figli quindi c'è un valore ecco perché dico c'è una pedagogia sull'umanità anche in questo libro biblico andiamo avanti Ruth trasgredisce ogni vocazione trasgredisce ogni vocazione e trasgressione nelle sue parole c'è un capitolo della grammatica delle vocazioni per sempre Ruth in Noemi non vede solo una buona suocera o una carissima amica ci vede anche il proprio destino il suo posto al mondo sente pronunciare il suo nome queste parole di Ruth sono più grandi del contesto del suo libro sono una declinazione orizzontale antropologica dell'alleanza biblica innanzitutto vi troviamo il senso del per sempre solo nelle vocazioni c'è un per sempre anche se un giorno ci fermiamo e torniamo a casa e quando qualcuno pronuncia un per sempre è dentro una vocazione anche se non lo sa ecco perché questa pagina di Ruth la si legge nella liturgia nuziale ma la si potrebbe leggere anche in quella delle vocazioni religiose persino nelle vocazioni non religiose se fossimo abbastanza laici ma non lo siamo un attimo solo abbastanza laico torniamo solo e qui sono due pagine insieme ma non sono solo parole semplici né romanti sono un grido dove tocchiamo il cuore del dramma dei rischi del paradosso delle vocazioni un passo che andrebbe accostato a poche parole di Giobbe o di Geremia se cancelliamo questa dimensione tragica facciamo di questo grido e delle vocazioni un pensierino sentimentale banale e lo tradiamo c'è poi una sequela le vocazioni sono prima di tutto una faccenda di piedi questa è mia definizione di vocazioni un po' brutale ma le vocazioni non sono una faccenda troppo sentimentale è andare come si vedrà intanto si parte dopo aver sentito una voce ci si mette subito a camminare con qualcuno dietro a qualcuno attaccato a qualcuno a una o più persone concrete ci si attacca come la lingua di Ezechiele si attacca al palato dopo aver perso sua moglie l'adilizia dei suoi occhi si resta fedele alla vocazione finché non si smette di camminare anche quando con il passare del tempo non sappiamo più chi è colui che stiamo seguendo le vocazioni sono se quelle di persone ecco perché esiste una grande prossimità tra le vocazioni matrimoniali e quelle religiose gli uomini e le donne hanno imparato a seguire soltanto Dio guardando persone che seguivano soltanto persone soltanto una moglie o un marito e lì lo reimpariamo ogni giorno perché le sue quelle non sono mai astratte se c'è un luogo dove la realtà è il più grande dell'idea è nelle vocazioni anche quando si entra in una clausura si seguono persone ci si lega qualcuno che è stato luogo della voce che ha dato carne alla voce io c'ho molto a cuore in mondo religioso questo qui è un libro che ho scritto per tutti non per il mondo religioso però c'ho sempre riferimenti alle sue ore alla clausura perché è un mondo molto vivo per me ci si attacca a un fondatore a una comunità ad amici amiche ci si lega il proprio destino al loro e quando questo manca le esperienze vocazionali diventano nevrotiche solitudini tristi riempite di autoillusioni un po' fortino qui scusate ma insomma quando nella mia vita ho incontrato una sequela incollata le protagoniste erano quasi sempre donne la sequela femminile ha le sue note tipiche e una di queste è la capacità di aderire con il corpo e con l'anima questo incollamento conosce chiaramente i suoi rischi manipolazioni abusi violenza idolatria ma quando è libero e consapevole è tra le cose più belle sotto il sole che ti porta a farti ricoverare sano in una casa di cura solo per poter stare vicino a tua moglie questo era era un fatto era un fatto di due giorni di due persone anziane dove il marito che parla di una mia amica aveva fatto questo perché c'era i covid in quel periodo Ruth è difficile da capire perché nella storia antica e recente dietro le scelte di Ruth non c'è sempre libertà e le Noemi non sono sempre oneste e responsabili come quella del libro ma Ruth ci ricorda una grande verità umana che non cessa di essere grande perché è fragile e vediamo Ruth quando una persona decide di continuare a seguirne un'altra senza altre ragioni di quella sequela quando capisce che la libertà che le avevano fatto lasciare tutto e tutti per non dipendere da niente e da nessuno è la stessa libertà che oggi le fa splendere per una sola persona quella libertà conquistata ieri l'infinito che diventa particolare il logos che si fa bambino Ruth è icona della più grande gratuità perché è icona della più grande libertà ho incontrato alcune Noemi e qualche Ruth ho visto il volto di Noemi in quello di una fondatrice di una comunità che giunta al termine del suo compito si ritira e ho visto Ruth che la segue nella sua pensione o se ne prende cura durante la lunga malattia è la fedeltà che diventa più grande della carica e del ruolo l'ho rivista nella fedeltà di un marito a una moglie che per una malattia non lo riconosceva più ma lui continuava a conoscere e riconoscere lei fino alla fine senza le Ruth nelle comunità regnerebbe solo lo spietato avvicendamento delle cariche e delle funzioni e nessuna famiglia durerebbe per sempre ecco questo abbiamo finito questa parte qui spero che vi sia piaciuto un po' Ruth e Noemi e ora il libro di Ruth continua in splendidi racconti che non possiamo fare perché insomma se no faremo solo questo abbiamo un'ora e mezza e non ce la facciamo perché dobbiamo arrivare alla parte dell'economia perché voi siete qui per l'economia non per il libro di Ruth perché voi siete tutte economiste più o meno diciamo non proprio tutte tutte ma insomma alcune e quindi dobbiamo dobbiamo lasciare queste tematiche vocazionali che sono anche interessanti e sempre lo stesso libro arrivare alla parte delle perché una volta arrivate a a Bethlehem le due donne Noemi e Ruth accade un fatto strano che Noemi non sembra così contenta che ci sia Ruth con lei cioè mentre Ruth sente questa spinta questa vocazione a stare ad attaccarsi a Noemi Noemi non è così sicuro di sentire la testa vocazione cioè non parla sta zitta il dialogo finisce almeno non è che abbiamo elementi negativi ma non abbiamo nessuna parola positiva per dire grazie che bello e io lì commentavo nel libro non è raro che accada questo che una sente una vocazione nasce tutto arriva in comunità poi hai come l'impressione ma ma qualcuno interessa se è venuto qua o no cioè che non è così evidente che l'altro che ti accogli abbia la tua stessa percezione di quello che stai facendo ci possono essere una volta può essere così altre volte no quindi arrivano a Bethlehem le due donne e in quella in quella esperienza si ritrovano chiaramente senza niente dopo l'entusiasmo della partenza come succede nelle vocazioni si parte poi si arriva in Africa o si arriva in posto dove dove tutta la luce della prima fase diventa la fatica di vivere in luoghi non sempre come te li immaginavi e devono sopravvivere perché non hanno nulla sono povere e inizia l'esperienza della spigolatura perché voi sapete che Ruth è tante cose ma è la spigolatrice e quindi ora ci spostiamo nel testo dove dove vi racconto qualcosa di questa del lavoro che fa Ruth come spigolatrice nei campi di Orzo anche che si poi arriva e dicono le persone di 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 Bethlehem ah è tornata Noemi ma è quella Noemi o come invecchiata cioè queste sorte di penitenze aggiuntive di chi torna a casa un po' magari con un fallimento con un dolore con una vita che non è funzionata e per di più i vicini che dicono guarda come si è sciupato come era bella la giovane come è tornata ora no? tutte queste cose che non fanno altro che peggiorare il dolore aumentare il dolore di queste persone che già soffrono e allora a un certo punto a Cacqui c'è la mano invisibile di Dio che comincia a lavorare perché questo Cherut va a spigolare che era un modo di vivere dei poveri come sappiamo in Israele va a raccogliere il grano il frumento che avanzava dietro i vititori però in questa scelta Dio comincia a fare il suo lavoro invisibile anche se Dio non c'è nel senso esplicito ma c'è nelle circostanze della vita la provvidenza nella Bibbia agisce per cause seconde cioè attraverso persone concrete quindi possiamo di nuovo condividere volete fare qualche domanda sulla prima parte vi siete diciamo era tutto chiaro avete qualche domanda possiamo anche fare un secondo di pausa se volete non vedo reazioni professore quindi quindi non interessa non interessa ma magari ci stanno pensando l'ottimismo antropologico dicendo studi dell'USMI no no ma anche io ci credo perché bisogna pensare e fare domande è troppo semplice così poi si può anche scrivere impitare non è che tutto finisce qui allora condividiamo il nostro schermo e andiamo sempre root ecco qui però questo non è root questo è un altro questo è questo è Giacobbe scusa io sono un po' non sono molto portato per queste per queste faccende quindi scusa vuole condividere? sì sì ora condivido di nuovo mi sono mi sono mi sono confuso che no mi sono confuso cioè non ho sbagliato a condividere devo ritrovare il mio zoom ecco allora anteprima root dovrebbe essere questa sì che Noem aveva un parente da parte del marito un uomo ricco e di valore dello stesso clan di Elimelec che era il marito che si chiamava Boz o Boz dipende come si pronuncia insomma è un nome ebraico Boz è un uomo di valore questo nella Bibbia vuol dire tante cose è un uomo giusto anche questa parola giusto nella Bibbia è molto importante perché nella Bibbia mentre per noi cristiani e anche uomini moderni donne moderne conta di più la bontà a volte che uomo buono che donna buona che è questo che è quella sì nella Bibbia conta più la giustizia perché conta la giustizia perché ricevere un aiuto da una persona giusta è meglio che ricevere qualcosa da una persona buona perché quando io ricevo come in questo caso vedremo un aiuto da un giusto non percepisco che questa persona mi sta aiutando perché le faccio pena o perché è buona ma perché è giusto e quindi in quanto giusto mi aiuta perché è parte della giustizia questo gesto non dell'altruismo perché a nessuno piace essere oggetto di altruismo di altri una volta sì ma non sempre quindi sapere che qualcosa che uno mi ha fatto qualcosa mi è dato un pagamento vedremo oggi mi è dato uno stipendio perché è buono o va bene ma se mi è dato perché è giusto ancora meglio perché noi esseri umani amiamo sentirci oggetto di giustizia più che sentirci oggetto di bontà soprattutto nella vita pubblica quando si esce di casa e si diventa adulti quindi arriva il primo uomo di questa storia siamo a capitolo 2 il primo capitolo è tutto femminile sono quattro capitoli e arriva in un contesto interessante cioè tipico cioè di di questa storia di Ruth che cerca di cavarsela in una situazione difficile perché devono ora andiamo perché devono appunto sopravvivere e lei dice quindi dice Ruth la moabita lasciami andare in campagna a spigolare e le rispose Noemi va pure figlia mia lasciami andare si capisce che chi comanda è Noemi no? non è esattamente Ruth a spigolare la spigolatrice che è una parola stupenda in tutta la Bibbia che viene spiegata soprattutto nel libro di Ruth la troviamo chiaramente nei libri del Pentateuco nel Deuteronomio perché è una legge di Israele di 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 dei poveri ma era molto di più era il tempo della metitura dell'orzo quindi che arrivava dopo una carestia lunga quindi era un momento molto importante che cos'era una che cos'era la spigolatura cioè si poteva sopravvivere in tempo di metitura passando dietro i metitori ed era consentito quindi non era dei latri come accade oggi sapete che è stata abolita la la spigolatura nel nel codice civile moderno perché considerato un furto invece in quel tempo faceva parte della legge di musè cioè quindi gli uomini passavano per primi prendevano le spighe con la mano sinistra con la falce con la falce tagliavano il mannello c'è una quantità di spighe in una mano e lasciavano in terra le spighe falciate poi passavano le donne operaie attenzione dipendenti che legavano queste questi fasci e facevano e formavano i covoni infine in terza battuta passavano le spigolatrici che erano insieme le donne e bambini che raccoglievano ciò che rimaneva non legato per terra o nei bordi dove non passavano i metitori quindi erano donne le spigolatrici che andavano dietro ad altre donne che seguivano i metitori era una raccolta di terzo ordine quindi capite che si raccoglieva poco per per vivere proprio qualcosa che ti consentiva di 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 non morire di fame ma chiaramente era un lavoro per poveri erano in genere per i forestieri per le vedove per gli orfani e quindi però in quel grano doveva restare il grano perché si sapeva che non dovevi raccoglierlo tutto quel grano questo è molto bello quindi non era un grano dimenticato era un grano sospeso in onore dei napoletani e del caffè sospeso e si fa questa bella tradizione napoletana che si lascia un caffè pagato per chi passerà dopo che non ha i soldi per pagarlo nei bar napoletani e quindi era prevista dal levitico quando metterete non metterete fino ai margini perché li lascerai per il povero e per il forestiero e nel deuteronomio quando bacchierai i tuoi ulivi non solo il grano ma anche per la frutta per gli ulivi non tornare a ripassare i rami sarà per il forestiero per l'orfano e per la vedova e quindi erano pratiche antiche ora qui non voglio farla troppo lunga comunque la spiegatura della Bibbia è un'istituzione di amore di esed di misericordia di giustizia perché la terra della Bibbia è di Dio noi siamo tutti utilizzatori di seconda battuta non siamo i predatori non siamo i padroni siamo sempre ospiti di una terra che è tutto dono allora in questo contesto si svolge il racconto il racconto di Rutte qui faccio riferimento al Medioevo che esistevano ancora pratiche così che la manna non è mai uscita la manna dall'orizzonte biblico io dico c'è ancora questa eco nei libri mastri dei mercanti medievali dove i conti erano intestati alcuni conti a Messer Domine Dio nelle compagnie toscane del De Trecento dove si dava a Domine Dio una parte di azioni che andavano i poveri erano proprio nel libro mastro io ne ho visti Messer Domine Dio aveva un conto come Messer Lapu e Messer di voi insomma Francesco e quindi in questo contesto la Bibbia e l'economia di Rutte ci ricordano una cosa di estremamente importante San Francesco è tutto qui la terra non è nostra come voi sapete che c'era una tradizione antica nei conventi francescani padre Francesco ordina che l'ortolano lasci incolti i confini attorno all'orto affinché a suo tempo il verde delle erbe e lo splendore dei fiori cantino quanto è bello il pare di tutto il creato vuole pure che nell'orto una iola sia riservata alle erbe odorose che producono fiori perché richiamano a chi gli osserve il ricordo della sua vita eterna dove potevano andare gli uccelli e quindi non tutto il campo va messo a reddito una parte è per gli altri per la reazione Francesco che è una visione cosmica ma è per i poveri e quindi è questo allora i beni diventano benedizioni per noi solo se siamo capaci di non usarli soltanto per noi perché l'economia della roba chi di voi conosce Verga è quella di Mazzarò come sapete quella stupenda novella di Verga la roba che questo Mazzarò che aveva fatto tanti soldi si era arricchito da povero da garzone da padrone questo racconto che inizia che un signore che viaggia per la Sicilia di chi è questa roba di Mazzarò e di chi è di chi è questo greggio di Mazzarò e questa madre di Mazzarò tutto era di Mazzarò ma questo Mazzarò a un certo punto si accorge che è invecchiato che deve morire e allora dice il testo di Verga che poi è la stessa storia di Mastro Don Gesualdo che è un Mazzarò che diventa romanzo pochi anni dopo di una sola cosa gli doleva dice Mazzarò che cominciasse a farsi vecchio e la terra doveva lasciarla là dove era sicché quando gli dissero che era tempo di lasciare la sua roba per pensare all'anima uscì nel cortile come un pazzo barcollando e andava ammazzando a colpi di bastone le sue anni tra i suoi tacchini e strillava roba mia viettene con me e qui dico che il capitalismo senza la grande legge della spigolatura diventa l'economia di Mazzarò ne stiamo vedendo un'immagine col pianeta stiamo massacrando perché la roba è tutto è soltanto per noi e quindi questa spigolatura poi anche c'è qualcosa di suggestivo in quella andare dietro di Ruth questo andare dietro cioè la sua sequela continua segue Noeme segue i metitori quindi questo camminare dietro come dice questo grande biblista Jean Paul Sonnet che nella Bibbia andar dietro è cosa buona ecco perché io non avevo affatto le teorie della leadership noi siamo le teorie della sequela della fellowship più che la leadership noi seguiamo qualcuno non chiamate nessuna guida perché siete tutti fratelli uno solo il vostro maestro e quindi qui possiamo tornare a leggere se la nostra sorella che legge così bene può prestarci la sua voce tutta la storia se c'è ancora se non torna a parlare ci sono ma non non vede non vedo ah tutta la storia della salvezza è la storia dell'arameo errante che va dietro a una voce l'uomo biblico è colui che viene dietro e chi viene dopo perché chi viene per primo è la voce chi viene per primo è la comunità è il bene comune e ogni lettore della Bibbia arriva dopo passa tra quelle righe come tra le vigne già sfogliate che non ci appartengono ma alle quali veniamo ammessi perché da ultimi siamo i più poveri ma quelle ultime spighe supersti non sono lì a caso dimenticate stanno lì sospese ad attendere fedeli che arrivi la nostra seconda battuta quella essenziale per sfamarci per sfamare per una liberazione e qui leggiamo l'ultima frase di questo inizio Ruth andò e si mise a spigolare nei campi dietro ai miei editori per caso si trovò nella parte di Campania appartenente a Boz che era della famiglia di Elimelech ora chiaramente il per caso della Bibbia non esiste è una categoria che non c'è il per caso il per caso vuol dire la provvidenza quindi per caso Ruth sceglie proprio il campo di un parente di Noemi per caso però lei non sa che quell'uomo è parente di Noemi lo sa soltanto l'uomo perché nel momento in cui l'uomo domanda a questa ragazza che trova lì a spigolare che era stata brava che aveva lavorato tutto il giorno tanto che il fattore cioè il capo degli operai la Loda dice questa ragazza è qui da questa mattina che lavora eccetera lui gli fa questa domanda che è sempre brutto per me uomo sentirla dire di chi è questa donna di chi è con questa privata dei maschi di chi è questa giovane e appena dice appunto raccoglie di chi è questa giovane dicono appunto si scopre che è parente di Noemi è una giovane moabita gli rispondono i meditori quella tornata con Noemi dai campi di Moab e quindi lui capisce che è parente sua ma lei non lo sa ancora e quindi inizia tutto un dialogo lavorativo tra Bozzi il padrone e Ruth che è molto bello e molto profondo sul lavoro che cos'è veramente il lavoro che è molto che è molto istruttivo anche per noi che ci occupiamo di economia da una prospettiva cristiana una prospettiva anche non solo cristiana ma anche carismatica e vocazionale quindi lui dice ai lavoratori non la molestate molto forte che questo versetto 2.9 ho detto ho detto ai meditori di non molestarti dice lui a Ruth perché era normale in quella cultura barattare le parti di campo migliori con varie forme di commercio diciamo di questo tipo e quindi lui la protegge da questo punto di vista ma non solo la protegge ma fa qualcosa ancora di più e cioè riesce a le fa un altro privilegio che dice quando avrai sete vai verso gli otri e bevi insieme agli operai quindi puoi bere con i lavoratori normali e poi anche se non si capisce molto bene perché non è chiaro nel testo sembra che Boz le consenta di raccogliere come seconda battuta cioè di farla passare insieme all'operaia non alla terza battuta le fa un altro privilegio ma tutte cose di cui lei non è consapevole e qui è è interessante perché che cosa accade in questo scambio di lavoro cioè che Ruth comincia cioè raccoglierà molto grano ma lei non sa che dire questo grano raccolto perché dice Boz ai meditatori fate cadere più grano del solito ma non glielo dite a Ruth cioè Boz fa in modo che Ruth pensi che sia lei a guadagnarsi quel grano quando in realtà c'è di mezzo lui che dice ai meditatori fate cadere più grano e questa parola salario torna che è molto bella perché nella Bibbia la prima volta che compare salario è è con Giacobbe nella Genesi 29 quando il salario che ottiene da Labano è Rachele è la moglie quindi l'economia che è dentro le parole vitali salario nasce con la moglie prima volta che compare salario compare per il rapporto tra Giacobbe e sua moglie la prima volta che compare che compare profitto nella Genesi vi dissi la volta scorsa mi sembra è con è con Giuseppe venduto dai fratelli in Egitto cioè ai cammellieri verso l'Egitto quando quando Giuda mi sembra dice ma perché lo andiamo ucciderlo vendiamolo ne avremo un profitto quindi profitto pecca la parola ebraica compare la prima volta dentro un fratello è qui salario con una moglie cioè l'economia biblica è tutta vita è tutta intrecciata con la vita perché l'economia è vita si muore e si vive per l'economia per gli stipendi la disoccupazione è guai a non avere uno sguardo sull'economia come una cosa vitale come qualcosa che riguarda gli specialisti perché l'economia è la nostra vita è la qualità della vita il fatto che possiamo ogni giorno mangiare che qualcuno possa crescere possa studiare questa è tutta economia quindi la bibbia sa molto bene che c'è questa cosa ora possiamo tornare a leggere e faccio la condivisione quanto tempo abbiamo ancora? abbiamo mezz'ora dai un sacco di tempo siete stanche? eh no vi sto stressando con tutte queste cose? no sono molto preoccupato io allora Ruth su Giunze posso rimanere scusi scusi avanti posso rimanere nelle tue grazie mio signore perché tu mi hai consolato e hai parlato al cuore della tua serva benché io non sia neppure come una delle tue schiave serva schiave non riesco ancora ad abituarmi al linguaggio che la bibbia usa quando le donne si rapportano con gli uomini soprattutto con quelli di status superiore un attimo possiamo seguire strategie ermeneutiche linguistiche creative e sfumare queste parole usando domestica oppure possiamo sostare su queste parole dure come ci si ferma di fronte a una lapida eretta al dolore delle donne nella storia umana per ricordare per non dimenticare e poi non darsi pace perché oggi quel dolore venga eliminato per sempre da tutta la terra poi al momento del pasto Boz le disse avvicinati mangia un po' di pane e intinge il boccone nel latte cagliato e la si mise a sedere accanto ai meditori Boz le offrì del grano abbrustolito lei ne mangiò a sazietà e ne avanzò e Boz il primo artefice di quella ricompensa piena nella Bibbia e soprattutto nel libro di Ruth le promesse di ricompense per i giusti vengono chieste a Dio ma realizzate primariamente da uomini e donne Boz prima prega Dio che concede a Ruth un salario pieno ma poi è lui che si adopera affinché quel giusto e abbondante salario si concretizzi queste sono per me le preghiere più belle che possiamo fare sulla terra sono queste le preghiere più belle prima del pasto chiediamo a Dio di provvedere il pane per chi non ne ha e subito dopo pranzo diventiamo noi i mezzi dove quel pane viaggia e arriva ai poveri preghiamo per la pace nel mondo e poi diventiamo strumenti di pace spostando i nostri risparmi in banche disarmate chiediamo al Padre un mondo più giusto e poi ci adoperiamo per la giustizia nella nostra città e nei salari della nostra impresa si capisce questo? certo poi lei si alzò per tornare a spigolare e Boss diede quest'ordine ai suoi lavoratori lasciatela spigolare anche fra i cuovoni e non fatele del male anzi fate cadere vedi apposta per lei spighe dai mannelli lasciatele lì perché la raccolga e non sgridatela Ruth è terminato il suo dialogo con Boss e torna a lavorare e l'uomo resta solo con i suoi operai il dialogo tra questi uomini ci rivela un dettaglio particolarmente prezioso Boss per esprimere la propria benevolenza verso Ruth questo è importante avrebbe potuto ad esempio prendere direttamente dell'orzo e donarglielo senza fare questa scenata sceneggiata di far finta che cada utilizzando il registro del dono attenti qui qui entriamo nel rapporto col dono e invece ricorre a una strategia complessa che coinvolge i suoi metitori Ruth non sa che le spighe che troverà nella sua spigolatura non sono solo frutto della sua fatica e della sua abilità ma anche e forse soprattutto della benevolenza di Boss ma Boss ha preferito che Ruth si procurasse il suo salario lavorando e quindi siamo qui di fronte a una pagina biblica sul lavoro tra le più belle perché avanti se Boss avesse preso l'orzo dal suo magazzino e le avesse donato la stessa quantità di frumento che lei raccolse in un intero giorno di lavoro la contabilità dell'azienda di Boss non avrebbe registrato una differenza nei ricavi ma l'esperienza e la dignità di Ruth sarebbero state molto diverse il dono è spesso un'esperienza umanamente positiva e ricca ma quando lo mettiamo in alternativa al lavoro raramente buono anche in quel mondo di servi dove al lavoro mancavano molti dei diritti e delle garanzie che la civiltà umana ha sviluppato nei secoli successivi la Bibbia ci dice che esiste un valore aggiunto nel guadagnarsi il salario con il proprio lavoro invece di riceverlo come regalo come dono dal padrone questo è molto importante anche nel mondo religioso anche nelle comunità cioè è vero che siamo dentro contesti diversi dove una suora una monaca fa il voto di povertà e magari lavora tutta la vita a servizio di un'opera dell'opera di una struttura interna e va bene però potendo non sarebbe male che anche una religiosa ricevesse uno stipendio che poi dona liberamente alla comunità che non sia tutto considerato dono per forza cioè il dono forzato che io l'altro giorno dei miei amici che stanno seguendo la riorganizzazione di Loppiano questa comunità dove io vivo dei Focolari che stavano vedendo come funzionano le varie cose gli stipendi i soldi mi ha detto il mio amico che non è un consacrato è un normale economista che però ha tanto amore e tanta benevolenza verso questo amore mi dice vedete il fatto che voi cioè voi io no chi lavora all'oppiano che sono quasi tutti i consacrati quelli che lavorano nelle strutture non vedete mai lo stipendio che guadagnate e tutto va direttamente cioè voi non transita nulla nelle singole persone tutto va direttamente diciamo nella cassa comune questo mi diceva lui la sua sensibilità impedisce a queste persone di vivere la comunione dei beni perché non sanno che cosa donano non sanno niente cioè tutto è automatico perché non date stipendi anche se più bassi che poi loro liberamente donano perché a meno fanno questo atto di libertà che non essere tutto in automatico è ovvio che è un tema infinito non si può fare sempre non si può fare non si può fare a volte proprio per motivi pratici per motivi legali però questo tema del denaro cioè del dono che non va contrapposto al contratto che non va contrapposto alla giustizia che il dono va bene per mille cose ma non va bene sempre perché nel lavoro bisogna avere la percezione che quello che noi stiamo facendo ce lo stiamo guadagnando e non solo perché c'è uno buono che ce lo dona avanti 2500 anni fa il lavoro era molto più fragile e ingiusto del nostro eppure la Bibbia ci dice che l'orzo guadagnato lavorando è migliore dell'orzo donato e così ci dice anche che un buon datore di lavoro deve far di tutto perché i suoi lavoratori non si sentano servi che ricevono arbitrarie regalie da padroni benevolenti ma persone che si guadagnano il loro salario con la loro fatica e il loro ingegno il giorno in cui iniziamo a pensare che il nostro salario non ci arrivi più dal nostro lavoro perché nel frattempo siamo diventati inutili all'impresa che ci continua con benevolenza a versare lo stipendio in quel giorno inizia una stagione molto triste del lavoro e della vita e deve finire presto ma c'è una cosa in più in questo verso di Ruth del suo libro Boz sa che Ruth con il suo lavoro normale sebbene già agevolato non avrebbe guadagnato abbastanza per far vivere lei e noi ecco allora su ordine ai miei editori di far cadere apposta le spighe lei non lo sa e crede che le spighe raccolte siano interamente frutto del suo impegno e talento e la Bibbia ci dice che è bene che lo pensi ma noi sappiamo con la Bibbia che non è interamente così la sua percezione sovrastima in buona fede il rapporto tra impegno talento e risultati qui faccio una riflessione sul merito i talenti e salario ecco allora svelato un modo giusto e onesto di leggere il rapporto tra merito e salario anche noi sovrastimiamo il ruolo dei nostri meriti nei nostri risultati neanche noi lo sappiamo ma dietro i nostri buoni raccolti c'è spesso un Boz che nel libro è anche immagine di un volto buono di Dio che ha fatto sì che le spighe siano maggiori dei nostri impegni e talenti siamo andati per caso a spigolare in quel campo poi abbiamo incontrato un giovane fattore buono che non ci ha cacciato via quindi è arrivato Boz che per caso era un parente di nostra suocera poi siamo entrati nelle sue grazie Boz ci ha protetti dalle molestie dei lavoratori ci ha fatto bere e mangiare ci ha fatto passare dal terzo livello delle spigolatrici a secondo dei lavoratori e infine ha chiesto di fare cadere apposta spighe per noi c'è tutto questo dietro i nostri salari non dobbiamo dimenticarlo soprattutto quando in nome della meritocrazia dobbiamo misurare e valutare i risultati i meriti e i salari di chi passa in terza battuta quando ormai le spighe sono quasi finite i nostri raccolti non coincidono con i nostri meriti così Ruth spigolò in quel campo fino alla sera battè quello che aveva raccolto e ne venne fuori quasi un'efa di orzo se lo caricò addosso e rientrò in città ecco un ultimo passaggio su questo va bene finora? vi state molto annoiando? no no è molto interessante cosa che voi conoscete siete tutti esperti di Bibbia io passo in terza battuta come Ruth raccogliere quello che resta no volevo dire poi c'è un altro elemento poi stiamo vicini ormai alle 5 perché il tempo vola che è quello che Ruth torna a casa e col grano e chiaramente quel grano non era per Noemi ma era per Ruth però lei dice a Noemi questo è il dono che ha fatto a Bossa per te cioè fa un gesto che ho poi qui commento che potrebbe sembrare strano cioè perché non ha detto questo è il grano che Bossa è andato a me e che io dono a te mi ha detto no questo è il grano che Bossa dona a te direttamente a te quindi finiamo con questa considerazione sul dono e i passaggi intermedi del dono nella vita se vi piace questo argomento cioè per quale motivo lei ha dovuto fare questo tipo di si è dovuto inventare questa cosa e qui arriviamo alla diversa sassietà delle donne che è anche il titolo di oggi con il quale concludiamo te la senti ancora sorella di leggere perché ti stai sforzando molto va bene va bene ce la fai? sì 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 ecco possiamo leggere anche questa questa bella poesia di Marangelo Marangelo Gualtieri nome che stai al centro il tuo suono ciocca e si imperla di voci ma nessuno ti tiene nessuno ti osa in suoni in lettera e in cifra nelle tue solitudini di mai chiamato come tutto è assai strano a me sembra assai strano ti piantono ti indago mi avvicino in millimetri ti ho nella voce senza che esca in suono ecco Ruth torna a Bethlehem con in spalla l'orzo raccolto spigolando dietro i miei editori diventati generosi perché obbedienti al comando di Boz il loro padrone la vediamo avanzare al tramonto di una lunga giornata che è trascorsa tutta l'aria aperta e sotto il sole con in spalla il pesante sacco pieno d'orzo un lavoro duro lavoro di poveri di donne povere sono passati due millenni e mezzo da questi versi ma continuiamo a vedere troppe donne che sul finire del giorno avanzano portando sulle spalle carichi troppo pesanti la pandemia di questi anni è stata dolorosa per molti sotto certi aspetti lo è stata per tutti ma soprattutto lo è stata per le donne che hanno dovuto farsi carico caricarsi sulle spalle genitori e bambini troppe Ruth tornano a casa la sera troppo stanche la cura sempre più necessaria diventerà sostenibile per le donne solo quando diventerà l'arte di tutti uomini e donne sua suocera Noemi vide ciò che aveva spigolato Ruth tirò fuori quanto le era rimasto del pasto e glielo diede come suo primo gesto Ruth dona a Noemi una parte del grano tostato che aveva messo da parte durante il suo pranzo con i miei editori il testo dice che quel grano era avanzato dalla sua sazietà ma noi sappiamo che è parte del mestiere delle donne di ieri e di oggi racimolare parte del loro pasto per condividerlo con chi non ha mangiato quel grano tostato messo in veste e custodito fino a sera per Noemi non era grano superfluo probabilmente era grano necessario donne e uomini abbiamo spesso misure diverse per misurare il necessario e separarlo dal superfluo è raro vedere una donna in particolare una madre che si sazia senza includere nella sua sazietà coloro che non stanno ancora mangiando non possono non riescono a saziarsi quando qualcuno che ama non ha ancora fame è una sazietà collettiva una sazietà di comunione che arriva solo quando e se ci si sazia insieme e questa sazietà parziale condivisa che fa sì che nelle comunità muoiano meno fragili e poveri durante le crisi e le carestie la sazietà diversa delle madri ha salvato e continua a salvare come i sistemi di welfare le mense di casa sono spesso luoghi di fraternità e sororità e non di soppruso dei più forti perché c'è almeno una donna che custodisce cibo per chi non è ancora tornato da scuola per i più piccoli e per le sorelle chi ha cura delle non sazietà assenti la fraternità è una sazietà misurata sulla base di chi non è sazio e non è ancora arrivato a tavola mi piace questo no tanto non fa niente non deve piacere la scuola c'era le chiese dove hai spigolato oggi dove hai lavorato benedetto colui che si è interessato di te Noemi più esperta di Ruth capisce subito che tutto quell'orzo non poteva essere frutto della semplice spigolatura perché molto maggiore di quella di un normale giorno di raccolta capisce che qualche proprietario terriero era stato particolarmente benevolente con lei che possiamo andare avanti perché non facciamo in tempo a leggerlo tutto e quindi saltiamo arriviamo alla parte finale allora dice qui insomma si capisce che a questo punto Ruth dice a Noemi che si chiama Boz questo uomo e lei capisce tutto allora a questo punto che Boz è suo cugino e le ha dato questo grano in più per questa per questa vicinanza per questa esperienza particolare e fa un'esperienza e lei si sente amata da Dio torna Noemi la dolce perché vuol dire dolce come il nome perché lei voleva chiamarsi la Mara prima di questa esperienza quindi questo dono questo dono del grano la fa tornare Noemi la dolce e e qui volevo fare una piccola riflessione su questo fatto del come si torna dolci dopo una vita amara le depressioni spirituali possiamo leggere le depressioni spirituali diversamente da quelle psichiche spesso si originano quando una persona che ha fatto della vita interiore il capitale più prezioso della propria esistenza inizia a sentire con forza e per un lungo tempo la scomparsa di una presenza intima la più intima in una prima fase lotta cerca altre sintonizzazioni più sottili o profonde ma se l'assenza permane la persona sprofonda in una vera e propria notte dello spirito nella quale non si vede nell'alba né la speranza dell'alba dell'alba si insinua alla convinzione che la voce che era stata l'anima dell'anima sia scomparsa per sempre e non parlerà più la Bibbia ci dice che da queste depressioni speciali che somigliano alle depressioni normali ma sono molto diverse si può uscire in due modi la soluzione più comune è un intervento diretto di Dio che rompe nella vita della persona depressa spiritualmente Elia Anna Abramo ma ora scopriamo che c'è anche la soluzione nel libro di Ruth dove una donna Noemi esce da una depressione perché ritrova la presenza di Dio attraverso la benevolenza di un uomo ma diversamente da altri passi biblici dove la persona umana che risveglia nell'altro la presenza spenta di Dio è un profeta Eliseo Isaia Nathan Gesù stesso nel libro di Ruth a risvegliare Dio in Noemi è l'azione di un uomo ordinario di una persona normale di uno come noi e la ritrova ancora indirettamente Noemi a vedi agire Boz B con misericordia verso sua nuora Ruth C e in questa azione generosa Noemi risente l'amore di Dio D e della vita verso se stessa A al Dio biblico piace intrufolarsi dentro le nostre reciprocità nascondersi dietro le maschere le persone della commedia umana che è anche divina Non possiamo sapere quante Noemi ritrovano Dio nella loro anima perché hanno visto un Boz diventare provvidenza generosa per una Ruth La Bibbia ci svela la trama della storia ci dà alla fine la visione di insieme del racconto dove tutto diventa trasparente ma nel libro della vita le maschere non sempre si tolgono alla fine Noi conosciamo solo alcuni brani a volte solo alcune parole della storia che stiamo scrivendo forse solo in paradiso ci accorgeremo di quanti Boz c'erano dentro le nostre risurrezioni e quanti Noemi avevamo fatto risorgere perché avevamo riconosciuto amato e accolto un povero una straniera una vittima e qualcuno ci aveva guardato capiremo finalmente che anche dietro alle nostre misteriose risurrezioni e qualche volta ci hanno fatto rialzare quando pensavamo fosse finita che ci hanno fatto riscoprire il nostro vero nome c'era stato qualcuno che aveva amato anche per noi la Bibbia è questo paradiso qua giù che ci dice assicura che le trame invisibili d'amore che si compongono attorno a noi sono più numerose preziose delle poche che riusciamo a vedere a occhi nudi bene abbiamo sei minuti per fare un po' di dialogo spero vi sia piaciuto non lo so io mi sono impegnato ma non basta impegnarsi come dice quella canzone avevamo fatto di tutto ma non è stato sufficiente quindi spero che sia stata in parte contenta di questo cammino attraverso il libro di Ruth che è un particolare ma è anche molto bello come particolare spero che sia almeno stata Sor Fernanda che è il mio capo io avrei una domanda professore ragiono a voce alta perché non l'ho pensata troppo ma questa economia diciamo così della spiga sospesa del caffè sospeso lo sento cioè che cosa e come può inserirsi dentro il sistema di povertà dei nostri ambienti dove il dono in alternativa al lavoro il dono noi viviamo quasi a parte noi magari di vita attiva ci guadagniamo anche il pane col lavoro delle nostre mani ma negli ambienti per esempio dei monasteri dove si attende tutto un po' dalla providenza dove oggi si vive perché abbiamo le pensioni le pensioni sociali cioè allora il dono in alternativa al lavoro che non è sempre una cosa buona o raramente è buona che cosa può ispirare questa economia della spiga al nostro al nostro senso di povertà evangelica come che cosa possiamo trovare perché ci ispiri a rivedere un po' anche il modo di professare la nostra povertà bella bella domanda ma innanzitutto dico due cose perché è un tema molto grande su cui anche abbiamo riflettuto in questi anni ma allora innanzitutto il dono non è quello che abbiamo detto oggi non è sempre cioè è spesso problematico se alternativo al lavoro ma spesso non vuol dire sempre probabilmente ci sono degli ambiti come quello che lei ha appena menzionato delle sore di clausura ma anche la famiglia stessa il rapporto tra genitori e figli non deve passare per il contratto è tutto dono cioè finché non sono diciamo in un'età adeguata ma è anche nelle comunità religiose dove si vive di dono di provvidenza dove il lavoro non è la dimensione fondativa anche se siamo sempre attenti che anche il monachesimo nasce da ora et la bora e quindi chiaramente era un ora et la bora medievale dove il lavoro era di un certo tipo però i monasteri sono stati anche dei luoghi dove è nato il lavoro moderno cioè anche l'idea della regola della liturgia che ingloba anche il lavoro che quindi lavorare come pregare questa è una cosa stupenda del monachesimo cioè non è che io per sentirmi in vocazione mentre lavoro devo dire i salmi o devo dire il rosario anzi quando il monachesimo ha fatto questo ha avuto sempre dei momenti di involuzione cioè il monaco è se stesso è pienamente in vocazione quando lavora e basta e quando prega e basta perché il lavoro è liturgia come lo è la preghiera quindi il monachesimo nasce anche da un'esperienza lavorativa i primi francescani lavoravano come leggiamo dalla regola di San Francesco che prevedeva delle norme sul lavoro quindi perché fa parte della vita anche il lavoro poi il lavoro può non essere un lavoro diciamo salariato perché ci sono ripeto ci sono dei contesti ancora oggi importanti dove il lavoro si esprime come volontariato come dono pensiamo a tutto il mondo del volontariato è una cosa enorme io oggi voglio mettere in luce alcune criticità di questa cosa cioè ci sono dei luoghi dove contrapporre il dono contrapporlo cioè come metterlo in alternativa al contratto può essere negativo facciamo un esempio se io ho un giovane o una persona che ha famiglia che viene a lavorare in una comunità religiosa anche di clausura perché anche di clausura hanno dei dipendenti oggi non fosse altro per lavori molto necessari la manutenzione ecc ma a volte anche per cose più importanti avete anche consulenti se io ho un lavoratore che viene che ha famiglia o un giovane che deve farsi nella famiglia che viene a lavorare da me io non posso accontentarmi del dono devo fargli un contratto regolare perché non sarebbe amore dagli 200 euro di rimborso spese uno che deve camparci nella famiglia o dire no ma noi siamo il dono è superiore no non è sempre superiore non bisogna essere ideologici cioè il dono è spesso superiore in certi contesti e in certe condizioni non è sempre tanto che nella Bibbia torniamo sempre alla Bibbia quando c'è un atto veramente importante da fare pensiamo a Bramo con la tomba di Sara dagli Etiti Genesi o Ezechiele il capitolo 32 sul contratto del campo ad Anatot scusate Geremia nel contratto per comprare un campo ad Anatot lì il dono non basta lì c'è bisogno del contratto del prezzo pieno di mercato e lo dicono più volte cioè come dire le cose veramente importanti bisogna dare una serietà che chiama in campo anche le nostre risorse economiche non basta è un paradosso per noi a volte pensare che nella Bibbia il contratto sia più forte di un dono ma c'è una sua concretezza cioè che se in certi ambienti io in nome del dono non metto in regola le persone o faccio delle cose che che sembrano più amore ma non lo sono perché il rispetto passa anche per questo cioè quando una persona è più fragile non l'abbiamo letto però c'è tutta una parte del mio commento a Ruth dove si capisce perché Ruth perché Boz non fa sentire Ruth soltanto oggetto di un dono quando tu hai a che fare una persona più importante più potente una persona più fragile fare un contratto è fondamentale perché diventa un esempio di dignità e di rispetto cioè io ti rispetto facendo un contratto e non dando di quello che mi pare a me giusto darti perché quindi il dono è forte ma anche fragile perché è soggettivo aspettative interpretazioni crea pretese crea dipendenze il contratto ha anche il suo valore quindi bisogna mai essere ideologici sempre o mai in certi contesti il dono è preferibile in altri no e bisogna saperlo cioè su questo tema a me questo è un tema molto importante cioè di riflettere su queste cose poi ognuno fa le sue scelte però non dare per scontato alcune dinamiche che magari abbiamo fatto così per sempre perché la storia ci parla anche con le leggi che vengono la provvidenza parla anche attraverso il linguaggio della solidità civile della sicurezza delle garanzie del rispetto io dovetti una volta fare un intervento forte in Vaticano vent'anni fa quando qualcuno mi teorizzava che le suore non dovevano essere pagate che lavoravano in Vaticano perché loro lo facevano per amore questo si chiama sfruttamento totale in nome dell'amore voi pagate le donne come i maschi punto e basta con contratti che non c'è se uno lo fa per amore o lo fa perché fa parte della dignità essendo anche più fragili dei preti le suore vanno rispettate con i contratti e non soltanto dando qualcosa così come rimborso perché loro sono portati all'amore mi disse un cardinale dico si è portato anche io all'amore però se lavoro tu mi rispetti anche con un contratto perché è una forma di dignità di rispetto non è sempre non è un assoluto a volte non serve ripeto in famiglia non si fanno contratti ma in certi casi sì io volevo soltanto un po' complicarvi un discorso che a volte viene troppo troppo facilmente liquidato nel nostro ambiente cattolico vorrei prendere la parola un attimo se voi avete tempo sì perché il tempo è passato un secondo grazie professore intanto per quello che ci ha detto mi porto personalmente dietro una sequenza che ha sottolineato la voce la comunità e il bene comune credo che in questa sequenza possiamo trovare tante risposte anche nella ricerca e poi un altro elemento come è qui una riflessione meriti e risultati che poi bruciano un po' tutto quanto è importante e grazie ancora da parte della fraternità grazie spero che sia un po' utile alla vostra vita chiaramente io ho la mia prospettiva di lavoro di riflessione ma io ho anche tanto in mente il mondo religioso e non è che perché un po' anch'io vivono comunità faccio parte di un'esperienza di un carisma quindi c'è molto a cuore anche se poi chiaramente un libro un articolo va a tutti quindi non è soltanto una riflessione però spero che anche per voi che poi certamente sarete anche religiose ma siete anche persone che avete tante dimensioni nella vita oltre alla dimensione della vita comunitaria c'è una suora forse deve raccogliere anche la domanda di suora Cristina delle suore del cuore del verbo incarnato che vuole fare una domanda su sì grazie se c'è tempo intanto ringrazio il professore perché è stato sicuramente illuminante tanti spunti ma la mia domanda è specifica proprio al coraggio che ha avuto di non contrapporre ma di mettere in relazione giustizia e bontà sottolineando però che si desidera essere oggetto di giustizia tante volte più che oggetto di bontà e questo che non è che vuol dire che non ci fa piacere che qualcuno ci tratti bene o ci voglia bene ecco ma lo volevo mettere in relazione con un'altra frase quella proprio che lei poi ha detto che mi è piaciuta la fraternità è la cura di chi non è ancora sazio la cura dell'annunziazietà o dell'annunziazietà assente che a mio avviso ma questa è la mia domanda è proprio una questione di giustizia nel senso che la parola amore è sempre abusata molto spesso è abusata ma la parola giustizia soprattutto nell'ambito religioso è soprattutto fraintesa e quindi mi piacerebbe se lei potesse spendere qualcosa se abbiamo il tempo anche due parole spesso magari cominciamo così per me la prossima volta visto che abbiamo ancora il dono di fare qualche altro incontro su queste tematiche possiamo tornarci anche perché nelle altre lezioni questo tema ritornerà che è un tema per me molto importante perché innanzitutto se è vero che non c'è che non c'è che non c'è carità senza giustizia non c'è giustizia senza carità perché sono due dimensioni che si intrecciano nella vita perché ci può essere una giustizia spietata che in nome di se stessa uccide chiunque fa una guerra lo giustifica in nome della giustizia è difficile che qualcuno dica lo sta facendo perché è giusto perché si sente minacciato di un diritto pensiamo ora in questi giorni ma anche guerre tra vicini di casa o guerra dentro casa quindi bisogna anche lì rimettere nella Bibbia la giustizia è la parola ben precisa che rimanda direttamente a delle categorie bibliche all'alleanza ai pilastri e non è mai separata dalla misericordia quindi io quello che volevo dire questa sera è questo cioè noi che infetizziamo molto la dimensione della bontà perché ci piace è anche tipica di una certa anche di una certa interpretazione penso vera del cristianesimo Dio è amore Dio è e l'amore in genere è associato è più alla bontà che non alla giustizia anzi a volte qualcuno dicendo una cosa assurda tende a dire Dio dell'Antico Testamento è giustizia il Dio del Nuovo è amore questa è una cosa assurda perché tutte e due sono entrambi anche perché Dio è sempre lo stesso altrimenti non avremo nel nostro canone anche l'Antico Testamento se fosse soltanto se fossero due D diversi come pensava pensava Marcione però allora in un contesto dove noi parliamo molto di amore e un po' meno di giustizia volevo sottolineare questa dimensione soprattutto nell'economia nella vita civile ma anche nei rapporti interni a una comunità che toccano appunto contratti remunerazioni pensate a voi quante incomprensioni avvengono nelle comunità sulla base della percezione di ingiustizia nei trattamenti nel favoritismo nelle predilezioni nelle carriere fra virgolette cioè la gente soffre molto quando sente non è giusto questa parola chi è? quante volte al giorno la ripetiamo non è giusto però poi ci manca una semantica per dire che cosa che cos'è allora il giusto che cosa significa il giusto qui credo che queste cose ne riparleremo perché è uno dei temi che mi stanno a cuore quindi abbiamo ancora degli incontri grazie per aver posto la domanda ma la svilupperemo grazie a lei sì ok l'importante è già la luna grazie 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 mille bene se non ci sono altre questioni chi ha qualche questione alzi la mano si faccia avanti altrimenti ora o vai più no ci orientiamo verso la conclusione sì mi sembra che sia chiusa non vedo mani non vedo neanche in chat altre vedo piuttosto qualcuna nelle chat che ci saluta le salesi e dell'ecuador e altre tutte molto soddisfatte tutte anche sentono un po' che è arrivata una consegna siamo invitati a vivere con sobrietà saluti e grazie dall'ecuador altre che trovano molto interessante quanto è stato detto comunque le chat le potete leggere tutte quindi bene grazie professore anche per il momento che ci ha dedicato oggi e alla prossima il 13 dicembre il giorno di Santa Lucia d'accordo voglio anche dire perché mi arrivano tante richieste di avere la registrazione perché magari si sono iscritte ma non hanno avuto possibilità di collegarsi perché avevano altri impegni tutto è pubblicato in Youtube che trovate nel sito dell'USMI nazionale allora devo stare attento a quello che dico perché allora le registrazioni dopo un po' di tempo scadono Youtube non scade più ecco perché la strada dell'Utube è quella che voi potete sempre utilizzare in qualsiasi momento lo potete riascoltare risentire riproporre alle comunità va bene? Sì Youtube è una sorta di vita eterna perché ricorda per sempre ok grazie professor Bruni l'aspettiamo qui all'USMI in sede con la formazione presto e un abbraccio intanto a tutti insieme a voi per l'ascolto per la partecipazione così numerosa che per me è anche un onore grazie veramente c'è una suora c'è una suora che alza la mano non so sormargi apri il microfono sormargi devi aprire il microfono apri il microfono grazie 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 mille volevi dire qualche cosa no 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 grazie lo ringrazio anch'io tutti grazie 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 buona sera sera grazie grazie grazie